Dove l'ho messo l'accendino? Guardi sei svegliata, si fai da... Proviamo... Questa tosse per colpa delle sigarette Non so se delle sigarette o dell'allergia che potrebbe essere in questo periodo In teoria non dovrei fumare perché... Aumento ancora di più la tosse Però raga, quando ci senti... Svegliata, grazie Cioè in teoria non dovrei fumare Però raga... Nooo, quale uscire ieri Non faceva caldo, non respiravo, non ce la facevo ieri Infatti sono stata pure dieci minuti in live Non avevo proprio la forza ieri Non riesci a stare senza fumare nobbe E sono dipendente oramai Cosa brutta però... Lo sono Cioè... Cioè... Cioè ho dormito stanotte Ho dormito solo grazie ai capelli che erano... Cosa proprio quando fumi Dipende dai casi in cui fumi Stavo dicendo... Cioè se io ho dormito stanotte solo grazie ai miei capelli Perché ieri mi sono fatta la doccia e non li ho asciugati Quindi diciamo che sentivo fresco grazie ai capelli che erano bagnati No, non vomita più Ralf Buongiorno Milan, come stai? No, per vomitare non vomita più L'unica cosa è che devo trovare il suo pettine Perché... Perde troppi capelli Troppi capelli Troppi peli Ehm... E devo vedere... Dove ho messo il suo pettine La camerina che mi è in bocca cosa serve? Mmm... Serve per la tosse in poche parole Cioè... Serve questa qua Che calma la tosse e l'irritazione del caporale Ma sono solo due giorni e la prendo Secondo me l'ergia è questa troppa tosse Boh... Spesso è stata tosse così Mi arriva a maggio Ah... Non le ho mai viste Queste Boh... Sono proprio tipo una compressa forte La gola Infatti... È senza zuccheri Ehm... Tipo va presa almeno tre volte al giorno Oppure quattro Ah... Tre quattro volte al giorno va presa Io ieri l'ho presa solo tre volte Perché... Perché raga... È fortissima È... Proprio forte Cioè... Tu la metti in bocca e... Non riesci Da quando sei in Italia? Da 12 anni Sono in Italia da 12 anni Mmm... 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 Yes... 22 anni No... Ne faccio... 20... Fra due giorni Fra due giorni faccio 20 Thank you No... Ma sei 2004, sì Io sono 2003 Nel prossimo anno Mmm... Mmm... Lo so che è forte, ma la gola metti la piano piano in bocca. No, infatti questa qua non la devo masticare, mi si deve scegliere in bocca. Non la posso masticare, la devo tenere in bocca, questa è la cosa che dà fastidio, capito? Infatti, è ancora qua. Se non ti senti più la gola. Il fatto che sta pillola mi fa tossire ancora di più perché mi cacciò fuori il muco. Non ci mette tanto a sciogliersi. Sì, perché sono proprio grandi, ti faccio vedere. Sono proprio così. Sono grandi. No, vi metto differenza con le pillole che mi prendo la sera, che sono finite, le devo comprare. Guardate la differenza tra questo e questa. Grazie, Peter. Il fumo, raga, crea muco. Anche perché è un sistema che cerca di rifiutare appunto il fumo, creando il muco per proteggere i polmoni e tutto il resto. Intanto non è niente da fare. No, quindi. No, l'unica cosa che mi stupendo è queste cose. Solo perché appunto io poi nel pomeriggio, di lunedì pomeriggio, devo uscire con i miei amici. E sinceramente è che è il mio compleanno appunto e non voglio stare male. Se io non dovessi fumare parte di scherzo. Sì, lo so che non dovrei fumare. Però... Sì, lo so che non dovrei far. Grazie a tutti.